Allora, ben trovati, eccoci qua, buonasera, che bello vedere una piazza, è davvero bello vedere una piazza così piena in questi tempi, io credo che la conoscenza, io sono convinto che la conoscenza sia l'unico strumento di emancipazione e di autonomia, sia l'unico strumento di crescita e di libertà e informarsi nel modo giusto credo che sia il percorso ideale per coloro che vogliono sviluppare una maturità critica sulle cose della vita, non dobbiamo prendere le cose per così come vengono raccontate perché spesso ci vengono raccontate delle balle, spesso, allora intanto vi presento l'intervistatrice che è Cristina Lorenzi della Nazione, prego Cristina, prego Cristina, buonasera a tutti, accomodati pure, e adesso il prossimo ospite lo conoscete però vorrei usare parole particolari perché Antonio Padellaro non è soltanto un grande giornalista, uno dei più grandi che abbiamo in Italia, Antonio Padellaro è anche un maestro, una guida anche morale, non voglio esagerare nel dirlo, Antonio Padellaro è uno dei fondatori del Fatto Quotidiano, ne è stato il primo direttore, è colui che insieme a Cinzia Monteverdi, Marco Travaglio, tutti gli altri, a Peter Gomez hanno deciso di fondare questo giornale senza padroni, i padroni sono i giornalisti, Antonio è stato il primo direttore del Fatto Quotidiano, oggi è nell'editorialista, lo annuncio, il grande Antonio Padellaro benvenuto Antonio, buonasera, buonasera a tutti e a tutte, non vi dico benvenuti perché tanti di voi sono qui da stamani quindi a dimostrazione che questo è stato un evento che ha avuto il successo che forse più di quello atteso dagli organizzatori non da me perché quando Cinzia Monteverdi mi ha annunciato questa cosa le ho subito detto che Carrara quando c'è un evento di qualità risponde, infatti Carrara ha risposto. Benvenuto Antonio, siamo qui a presentare il libro Solo la verità lo giuro, Antonio Padellaro è una delle firme più autorevoli del panorama giornalistico contemporaneo, in questo libro racconta a cuore aperto la sua vita professionale e attraverso la sua vita professionale racconta gli ultimi 50 anni della storia d'Italia, dai grandi nomi che hanno fatto la storia, che hanno fatto la cronaca, i casi più eclatanti, parliamo di Craxi, di Berlusconi, del caso Moro, Pasolini, la trattativa Stato-mafia, gli argomenti sono infiniti così come sono infinite le riflessioni che questo libro ha scritto in maniera, come scrive lui, diretta, cruda, asciutta. È un'analisi senza veli e anche senza pietà della società contemporanea e soprattutto di se stesso, cioè non fa sconti a nessuno, non li fa ai politici, non li fa ai giornalisti, non li fa a se stesso. La mancanza di pietà, la spietatezza più crudele, io l'ho trovata, e parto con la prima domanda, nel trattare la nostra categoria, la categoria dei giornalisti. Noi siamo passati nel libro da dei, semi dei, super fighi, a adesso che siamo fecciare litti, umani e parassiti. Si parla di un Luna Park fallito e in effetti lo splendore e il lustro che c'era negli anni 80-90 nei confronti dei giornalisti oggi, ahimè, non c'è più. Quindi la prima domanda è proprio questa, che cosa è successo in questa categoria che comunque, soprattutto oggi nel tempo dei social, di Facebook, è ancora più importante nel stabilire cosa è fake e cosa non dovrebbe essere. Sì, tanto grazie Cristina, grazie a voi per l'accoglienza ancora, una serata veramente splendida. Prima di entrare nel tema che tu hai proposto, io vorrei dire una cosa che riguarda Andrea Scanzi, perché Andrea, veniamo dopo la sua cavalcata straordinaria che ci ha divertito molto, però ha omesso di dire una cosa che riguarda Massimo Cacciari, non so se Andrea ve l'ha ricordata. Massimo Cacciari è un grandissimo intellettuale straordinario, lo conosciamo tutti, eccetera, ogni tanto così prende cappello. Allora voi dovete sapere che con Andrea ci messaggiamo quando Massimo Cacciari è soprattutto a otto e mezzo, perché la scommessa è prevedere quando sbroccherà Massimo Cacciari. Allora noi ci sentiamo, tra un minuto, io ho notato una cosa, avendo più esperienza di Andrea, essendo più anziano, che Massimo Cacciari comincia a innervosirsi quando comincia a guardare a destra o a sinistra. Quello è il segnale che entro un paio di minuti lui sbroccherà automaticamente. Questo per dire che, insomma, di personaggi, mi dispiace, non l'ho citato nel libro, ma ecco, mi faceva piacere parlare anche di questo per dirti quale sintonia c'è tra noi del fatto quotidiano, per cui ci divertiamo molto. Ecco, diciamo che la cosa fondamentale di questo giornale è che ci divertiamo e speriamo di far divertire anche amaramente, purtroppo spesso amaramente, voi e i nostri lettori. Vengo al tema, Cristina. Sì, è vero. Attenzione, io detesto, come dire, i pessimismi programmatici, no? Cioè, quelli personaggi che cominciano così, con aria molto pensosa e cupa, cominciano a riflettere, per esempio, sulla loro professione e dicono ah, purtroppo le cose vanno male. No, io non dico questo, poi vedremo anche il giornalismo di oggi. Però io ho avuto una straordinaria fortuna nella mia vita, non è soltanto questa che sto per riferire. Io ho vissuto, da giovane giornalista, l'epoca dello splendore del giornalismo italiano. Lo splendore dovuto a che cosa? Dovuto ai talenti. Io ho lavorato con grandi direttori, ma ho lavorato nell'epoca in cui ogni mattina sui giornali, diciamo, si confrontavano e anche, diciamo, incrociavano le lame, Indro Montanelli, Eugenio Scalfari, Giorgio Bocca, Giampaolo Panza e Enzo Biaggi. Enzo Biaggi, a cui noi dobbiamo tantissimo come spettatori, come lettori dei suoi libri, ma anche perché ha avuto, quando decidemmo di cominciare la nostra avventura, c'era il tema del come lo chiameremo questo giornale e siccome il fatto quotidiano era il giornale e si richiamava, poteva richiamare il fatto di Enzo Biaggi, io andai dalle figlie di Enzo per chiedere l'autorizzazione e loro furono felicissime. Ecco, questo legame che c'è con quel passato glorioso è anche un legame che ci fa chiedere che cosa è cambiato oggi e cosa non va. Ecco, io direi che una cosa che non va nel giornalismo contemporaneo riguarda proprio spesso la televisione. Io sono l'ultimo che deve parlare del tema talk show perché sono presentissimo, però una cosa che prima non c'era e adesso c'è, è vedere tante firme, tanti bravi giornalisti che quando vengono chiamati a giudicare per esempio il governo Meloni, tu sai già quello che diranno, tu sai già che ci sarà quello di una certa parte che dirà che il governo Meloni è il più bello, il più straordinario che ci sia e tu sai che ci sarà un altro che dirà che invece fa schifo, è un governo pessimo. Allora, questa divisione, queste parti in commedia non giovane al nostro mestiere perché il pubblico non vuole sapere come la pensi, a chi reggi la coda, ma vuole da te che sei un testimone diretto della realtà, sapere che cosa è successo, perché è successo, vuole un'analisi dei fatti e vuole soprattutto da te la sensazione di un'autenticità, di un'oggettività che ti rende credibile. Oggi purtroppo questa credibilità si è un po' persa, bisogna dirlo. A un certo punto nel libro dici che appunto il calo di lettori, il calo nelle vendite non è dovuto a internet ma ai giornalisti. Assolutamente sì, guarda, adesso senza generalizzare, perché poi a me dispiace anche che noi parliamo, diciamo un po', ce la cantiamo e ce la suoniamo, nel senso che quando si parla di giornalismo si parla di giornalismo politico, di giornalismo nostrano. Prima una collega mi intervistava, mi chiedeva un giudizio sulle guerre, no? Perché poi insomma siamo circondati da conflitti di straordinaria gravità e diceva una cosa che è molto bella sul fatto quotidiano che per esempio riguardo alla guerra in Ucraina, una posizione che non è quella diciamo abbastanza scontata della stragrande maggioranza della stampa italiana che non si chiede assolutamente non solo le origini di questa guerra ma anche il motivo, quale sarà lo sbocco. E quindi c'è un dato importante che il nostro giornale in qualche modo sottolinea che è quello del cerchiamo di capire, di vederci chiaro, di non giudicare per partito preso, ecco il partito del partito preso che fa tanto male ai giornali, ma nello stesso tempo il giornalismo è anche fatto di inviati sul campo, di fotoreporter, cioè persone che non solo rischiano la vita ma hanno perduto la vita per darci un video, per darci un'istantanea, per darci una cronaca diretta. Ecco, quando parliamo di giornalismo e magari ne parliamo male, ricordiamo questi eroi perché sono veramente eroi della nostra professione che sacrificano la loro vita per un'informazione libera. Allora, Antonio Padellaro, dicevo, è una delle firme per autorevoli, ha iniziato al Corriere della Sera, ha lavorato all'Espresso, è stato direttore dell'Unità, però racconta nel libro che è stato cacciato dal Corriere della Sera perché era troppo poco crazziano, è stato cacciato dall'Unità perché è poco veltroniano. Ecco, ci racconti questo capitolo della tua vita, delle cacciate dei giornaloni? Beh, guarda, credetemi, non c'è bisogno poi, se volete comprare il libro mi farà solo piacere. Tutto questo con il sorriso sulle labbra è assolutamente senza vittimismi e senza martirologi, cioè non mi sento martire di nulla. Racconto delle storie divertenti, avendo sempre riconosciuto all'editore il diritto di cacciare i direttori, perché in fondo nel momento in cui lo nominano, possono nominare al direttore e poi anche mandarlo via. Ora, è evidente che ci sono state delle situazioni che non erano gradevolissime, che ho vissuto ai tempi di Craxi quando ero al Corriere della Sera, del capo della redazione romana. Ecco, Craxi di cui non parlo male nel libro come leader politico, però era circondato da una masnada di censori, i quali ogni giorno appunto guardavano le croniche del Corriere e non gli piacevano per niente. E quindi queste pressioni, perché le pressioni sui giornali ci sono state anche in passato, erano pesantissime, queste pressioni alla fine mi hanno convinto ad lasciare un giornale dove avevo lavorato per quasi vent'anni e ad andare all'Espresso. Devo dire che l'episodio che racconto, forse un pochino più divertente, anche un po' grottesco, riguarda l'unità. Riguarda l'unità perché riguarda anche una persona di cui fra poco farò il nome, che conoscete tutti e che apprezziamo tutti. Insomma, all'unità, io vengo nominato direttore dopo che Furio Colombo era stato anche lui accompagnato alla porta, perché era una cosa strana, era questa, che quell'unità era un'unità anti-berlusconiana, però il nostro anti-berlusconismo non piaceva evidentemente ai dirigenti dei DS, per motivi così, alcuni misteriosi, altri abbastanza evidenti e chiameremo inciucio. Comunque, in quel momento il segretario dei democratici di sinistra era un personaggio di cui forse avete sentito parlare per una questione di profumi che si chiamava Piero Fassino. Piero Fassino, io cercherò di non infierire, racconto soltanto gli episodi, Piero Fassino aveva due caratteristiche. La prima caratteristica è che aveva la pressione bassa la mattina, come molti di noi, e quindi la mattina quando mi chiamava per protestare o una qualunque cosa, dopo i primi esperimenti capì che era meglio non parlargli la mattina, era meglio aspettare che la pressione tornasse a livello normale e quindi lo richiamava il pomeriggio, quando si era addirittura dimenticato il motivo per cui mi aveva chiamato la mattina. E comunque era molto cortese, addirittura mi chiedeva come stavo, come andavano le cose, e io questo espediente lo ha sempre applicato con un certo successo. Il secondo motivo di lagnanze di Piero Fassino è che non sopportava Marco Travaglio. Marco aveva cominciato sull'unità una rubrica di grande successo che si chiamava Bananas, in cui lui prendeva, insomma con lo stile che tutti conosciamo, episodi quotidiani che riguardavano Silvio Berlusconi e ci ricamava sopra. Questa cosa non piaceva a Fassino, il quale a un certo punto dopo aveva la pressione regolare quando me lo chiese, disse che io dovevo cacciare Marco, e io dissi no, io non caccio Marco, fai una cosa, caccia me, poi cambi un altro direttore che caccerà Marco eventualmente. Lui non mi cacciò perché poi arrivò Walter Veltroni, con il quale è impossibile litigare, perché Veltroni è impossibile, però anche Veltroni aveva qualche cosa, insomma senza farla tanto lunga, se no poi vi racconto tutto il libro. Che succede? Succede che insomma lui dice che avrebbe voluto un direttore donna, e siccome io tra le tante qualità che ho non sono donna, ho capito che mi voleva cacciare, ecco, le cose stanno così. Non essere donna non è una qualità. No, non è, non è, non è, però comunque. Volentieri, ma non ho la possibilità. Appunto, sei stato cacciato dal Corriere perché non eri abbastanza craxiano, però nel libro stendi un velo su Craxi, lo guardi con un occhio di riguardo, addirittura dici di lui avercene oggi di politici così, e dici anche di averlo votato in un certo momento della sua vita. Sì, allora, siccome il libro si chiama Solo la verità, scrivo anche delle cose che magari qualche lettore non apprezzerà, però vorrei spiegare Craxi. Craxi diventa segretario del Partito Socialista, le persone che hanno i capelli bianchi e bianchissimi lo ricorderanno, nel momento in cui il Partito Socialista di De Martino era praticamente ridotto ai minimi termini ed era in qualche modo bullizzato dal Partito Comunista, che in quel momento era in crescita esponenziale. Quindi Craxi arriva e certamente cambia, cambia anche un po' la natura all'inizio, le politiche del Partito Socialista, collocando in una posizione che era la più subalterna al Partito Comunista, che ovviamente dialogava con la democrazia cristiana, perché erano i due grandi partiti popolari e esisteva questo confronto. Ecco, Craxi riesce, e in questo la capacità politica va apprezzata, riesce a fare del Partito Socialista il terzo incomodo, tanto che poi fino a diventare Presidente del Consiglio. Craxi, insomma, non parliamo della fase che è legata a Mani Pulite, perché la conosciamo tutti, è anche la sua fuga dall'Italia, tutti gli episodi certamente poco commendevoli, che riguardano anche e soprattutto l'ondata di corruzione che investì anche il Partito Socialista. Però io devo dire nel libro che io gli riconosco tra le qualità quella di saper parlare. Lui aveva una capacità oratoria che era molto importante, molto forte. Cioè, attenzione, che noi abbiamo perso un po' il gusto del politico che sta a parlare, no? Prima Andrea Scanzi raccontava, facendoci molto divertire, del linguaggio un po' così, chiamiamolo così, un po' prosaico di Giorgia Meloni. Oggi, uomini politici che hanno la capacità di, no? Di tenere una piazza in ascolto per parecchio tempo, anche andare in televisione e essere capaci di questa, di questa, di creare tensione, una tensione positiva con il pubblico, non ce ne sono più. Quindi, forse, vedi, questo libro dovrebbe essere accompagnato da, sai come, in certi medicinali, si chiama Bugiardino, e dovrebbe essere, io vorrei scrivere, ricordare per dimenticare. Io ricordo il passato per dimenticare il presente, perché il presente è talmente mediocre e talmente sconfortante che è il ricordo del passato ed è un ricordo non nostalgico, è anche un ricordo divertito, perché è anche un ricordo che fa sorridere per tante cose. A proposito di ricordi divertiti, mi viene in mente un'altra parte del libro dove parli di Berlusconi. Vabbè, Berlusconi è di fronte a Berlusconi. di Berlusconi e anche con lui viene fuori una figura umana tutto sommato viene salvato. Berlusconi, insomma, io sono stato direttore dell'Unità che ha fatto campagne micidiali contro Berlusconi e il berlusconismo che era la parte peggiore di Berlusconi, cioè tutta la corte dei miracoli che lo circondava. Sono stato direttore del fatto, scrivo sul fatto, figuriamoci se c'è da parte mia, c'è da parte nostra indulgenza nei confronti dei danni colossali che Berlusconi e il berlusconismo hanno fatto al nostro paese. Quindi questo sia chiaro. Mentre io, dovendo raccontare anche, perché questo è un libro che racconta dei rapporti personali, perché è evidente che io con tanti di questi personaggi non solo li ho conosciuti come giornalista, ma poi li ho conosciuti anche un po' più da vicino, visti da vicino, se non fosse stato il titolo di un famoso libro l'avrei usato io. Allora, vedendolo da vicino, Berlusconi aveva questa capacità, che poi era la capacità che gli ha permesso anche di diventare molto popolare, di prendere tanti voti, di creare empatia con il prossimo. Io racconto di una tribuna politica all'inizio della sua carriera, nella quale lui mi accoglie dicendo, abbracciandomi quasi, ma neanche mi conosceva, dicendo che era il giornalista che lui leggeva sempre, ovviamente bugiardo come era, però, insomma, continuando a fare questo arruffianamento, a un certo punto diceva, ah, senta, che cosa mi domanderà durante la trasmissione? E io dico, no, veramente non glielo chiedo prima, perché se glielo dico prima lei si prepara, ah, ma questa è una scorrettezza, eccetera. E, insomma, poi, visto che non riusciva a convincermi, mi dice, ma lei si trova bene all'Espresso? No, perché, insomma, mi piaceva balenare qualche cosa, per farla breve, l'incontro-scontro andò come doveva andare e la cosa che mi colpì è che dopo avermi quasi abbracciato, detto che era una persona, quando andò via neanche mi salutò, perché ormai contavo meno di zero ai suoi occhi, ecco, questo è un Berlusconi. L'altro Berlusconi è il Berlusconi, è il Berlusconi, io racconto un episodio abbastanza interessante, per capire quanto Berlusconi disprezzasse il prossimo, disprezzasse soprattutto i giornali e il mondo che lui, forse anche gli stessi suoi elettori. Insomma, per farla breve, noi usciamo, non so, Marco se lo ricorderà, con una copertina in cui c'era il titolo Berlusconi il delinquente, no? Il delinquente perché? Perché c'era una sentenza della magistratura che l'aveva definita delinquente, era una di quelle copertine così abbastanza dolci e misurato del fatto quotidiano e io ero in macchina e a un certo punto il viva voce, le passi al presidente Berlusconi, io dico, eccolo qua, è evidente, sarà infuriato come una belva, no? dopo questo titolo, infatti sento la voce, una voce irata che dice Dottor Padellaro, questa volta avete superato ogni limite, è una cosa inaccettabile, avete scritto con i capelli finti, non è vero, è una menzogna, io i capelli veri anzi la invito a venire a Palazzo Grazioli e a controllare con le sue mani se i miei capelli sono veri o sono finti, ma se sono veri lo dovrà mettere pubblicamente, allora chiuse la comunicazione, allora al di là del fatto abbastanza straordinario che cosa ci voleva dire, che cosa mi voleva dire Berlusconi, voleva dire io me ne frego dei vostri titoli, io me ne frego delle vostre accusi, io me ne frego di quello che fa la magistratura, perché io sono Berlusconi ed è un messaggio che al di là appunto dell'episodio divertente, è il messaggio che ha guidato tutto il berlusconismo, cioè il berlusconismo è stata la parentesi di un gruppo dirigente, di un leader che se ne è fregato della Costituzione, che se ne è fregato della magistratura, che se ne è fregato dell'informazione e che forse se ne è fregato pure della democrazia. Allora, alziamo il livello dei politici, quest'anno è il quarantennale della morte di Berlinguer, e nel libro c'è un ampio spazio dedicato a questa figura e anche ad Almirante, al rapporto. Certo, allora, 10 giugno di 40 anni fa, insomma, il giorno della morte di Berlinguer, ma qualche giorno prima, Berlinguer chiude la campagna elettorale del Partito comunista a Piazza delle Erbe a Padova. E, insomma, l'immagine è quella che forse si può rivedere su YouTube, ma, insomma, chi era lì ricorda un momento di straordinaria drammaticità, perché Berlinguer appunto comincia a parlare e comincia a sentirsi male, perché comincia ad avere il principio di un ictus, e lo vediamo mentre si asciuga il sudore, mentre beve, beve in maniera continua, sperando di avere un malore passeggero, e continua a parlare con sempre maggiore difficoltà, e ci sono i suoi collaboratori che lo si avvicinano, c'era Antonino Tatò, che era il suo capo ufficio stampa, che era un personaggio piuttosto robusto, che cerca quasi, e lui si scrolla, perché lui deve continuare a parlare alla piazza, perché lui è il segretario del Partito Comunista e vuole che i militanti sappiano fino in fondo cosa pensa il segretario della campagna elettorale, però quasi non ce la fa più, la piazza comincia ad accorgersi che lui sta male, no? E c'è questo grido basta, basta, che è una cosa che fa venire i brividi, e Berlinguer che si aggrappa al palco e quasi stramazza, morirà qualche giorno dopo, morirà sul campo, Enrico Berlinguer è un uomo che è morto sul campo per essere coerente con le sue idee, per essere fedele al suo popolo, questo è, e non dobbiamo mai dimenticarlo quando parliamo della politica come di una cosa, la politica può essere una cosa di una straordinaria importanza con uomini come Berlinguer, poco fa Andrea ha detto, parlava di Almirante, diceva delle cose giustiche, Almirante ha avuto un passato pessimo, è stato un uomo veramente che durante la Repubblica di Salò ha sottoscritto del manifesto in cui si reclutava una forza ai ragazzi giovani italiani minacciandoli nel caso si fossero presentati di fucilazione, quindi non c'è da, non ci sono anche l'indulgenza nei confronti di Almirante, ma io ho raccontato una cosa vera, una cosa diciamo che è stata, che è convalidata dai fatti, dai testimonianzi diretti, del rapporto che in un momento molto particolare della storia italiana subito dopo il rapimento dell'assassino di Aldo Moro degli incontri che Almirante e Berlinguer ebbero al Palazzo Montecitorio venerdì pomeriggio quando la Camera era deserta perché i deputati erano tornati nei loro collegi e ho raccontato questo tentativo di creare un rapporto che nasceva da che cosa? Dall'esigenza di capire che cosa stesse succedendo nel nostro paese perché adesso noi la memoria un po' diciamo annebbia un po' tutto il ricordo ma insomma l'assassino di Aldo Moro aveva provocato non soltanto nel paese ma anche nella classe dirigente italiana uno stato di smarrimento poteva succedere qualunque cosa ed ecco che questi due personaggi si incontrano anche perché avevano due bei problemini il Partito Comunista aveva alla sua sinistra molto lontano da sé ma insomma le brigate rosse che erano rosse e Giorgio Almirante aveva i gruppi dell'inar e tutti i gruppi estremisti terroristi che avevano si saprà poi dopo con certezza avevano 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 fomentato le stragi le stragi le stragi le stragi lontanismo ecco questo incontro io l'ho raccontato per dire che c'è un momento nel quale personaggi che si sono combattuti aspramente addirittura nella guerra di liberazione si erano sparati contro c'è un momento nel quale occorre unire le forze per il bene del paese so che può sembrare retorica questa ma questi due personaggi in quel momento sentivano che c'era un bene superiore e che loro dovevano fare qualche cosa dovevano intervenire bene la prova di questo rapporto che si era instaurato sia pure un rapporto che potete immaginare due personaggi a loro modo freddi gelidi certo non avevano fatto amicizia lo abbiamo quando il giorno dei funerali di Enrico Berlinguer quando e questo è un dato di fatto anche qui fotografato e ripreso in mille modi quando Almirante viene ricevuto dai dignitari del partito comunista che lo accompagnano davanti alla salma di Berlinguer e lui sosta con rispetto davanti alla salma di Berlinguer poi dichiara da quest'uomo tutto mi divideva tranne l'enorme rispetto che avevo per la sua onestà dopodiché ecco qualche tempo dopo Giancarlo Paietta e Nilde Iotti andranno ai funerali di Almirante questo per raccontare che la politica può essere benissimo anzi deve essere scontro deve essere contrasto soprattutto tra idee così opposte ma non deve mancare mai non dovrebbe mancare mai una parola alla quale io sono molto affezionato e anche credo voi il rispetto il rispetto per le idee degli altri che vanno combattute ma che devono essere questo rispetto deve essere fatto non per una questione come dire umana o personale o di simpatia ma perché ripeto ancora una volta c'è un bene superiore che è il bene del paese per il quale la politica dovrebbe battersi e abbiamo visto dopo Berlinguer cosa è successo alla sinistra perché comunque se oggi siamo dove siamo è anche dovuto ai numerosi scismi a tutto quello che c'è stato al fatto che io penso che è un mio pensiero personale che la gente di sinistra ci sia in Italia però abbiamo un governo che non dice questo e loro sono convinti di rappresentare la maggior parte del paese il tuo rapporto con la sinistra è un rapporto dire altalenante è un enfemismo e fra le accuse che fai al panorama contemporaneo dopo i giornalisti ci sono i politici ma soprattutto la sinistra ma guarda insomma altro che un dibattito di 50 minuti dovessimo appunto affrontare tutti i guai della sinistra ne parlava prima Andrea a proposito di Canfora cioè le scissioni le rivalità il fatto anche che alle ultime elezioni un'opposizione che aveva la possibilità numerica se non di battere la destra che aveva fatto un bell'accordo un accordo cinico di potere tra Forza Italia la fratelli d'Italia la Lega ma insomma la sinistra la sinistra PD i 5 Stelle la sinistra italiana i verdi non metto Renzi e non metto Calenda perché non ho capito bene da che parte stanno forse non lo sanno non lo sanno neppure loro no Renzi lo sa Renzi lo sa forse è Calenda che è un po' è un po' smarrito insomma lì sarebbe bastato utilizzare al meglio la legge elettorale intanto per conquistare alcuni collegi che erano in bilico e che sono stati conquistati dalla destra per poche migliaia di voti sarebbe bastato e noi Marco da direttore hai fatto fare un pezzo pochi giorni dopo i risultati elettorali di Ilario Proietti che proprio raccontava quanti collegi sono stati persi una ventina circa di collegi che sono stati persi dall'opposizione chiamiamola così per assoluta idiozia io non ho altro non voglio pensare a complotti o altre cose di questo genere ma per assoluta idiozia cioè pensate se oggi l'opposizione potesse avere al Senato anche la Camera una ventina di seggi in più come sarebbero cambiati anche i rapporti di forza e quindi sulla sinistra c'è tanto da dire c'è una cosa però che stasera voglio accennare ed è la capacità l'incapacità della sinistra non solo di riflettere sui propri errori quando lo fa è sempre lamentosa è sempre ripetitiva non è interessante ma anche l'incapacità di riflettere sulle vittorie degli altri cioè voi avete per carità abbiamo letto qualunque ingiuria soprattutto dei giornali io li chiamo della parrocchietta insomma sinistra contro il generale Vannacci abbiamo detto che il generale Vannacci è l'orrore il peggio del peggio eccetera però avessi letto un'analisi da parte di questi leader sui 500 mila voti che il generale Vannacci ha raccolto questi 500 mila voti non sono calati dal cielo non sono il frutto di un incidente della storia non sono il riflesso la conseguenza del destino cinico e baro sono il fatto che c'è una parte del paese a parte quella che non va a votare ma c'è una parte del paese che addirittura preferisce votare il generale Vannacci piuttosto che votare forse che magari sono nello schioramento dell'opposizione allora la riflessione sul fatto sulla sull'elettorato è una riflessione anche quello che ha premiato la Meloni Giorgia Meloni perché insomma ne parliamo continuamente ma insomma è un fenomeno abbastanza incredibile una leader che passa dal 2 3 4% in una situazione catacombale di Fratelli d'Italia che era appunto una specie di frazione dell'ex movimento sociale e che diventa il partito di maggioranza relativa e diventa il partito di governo avete mai sentito da parte della Schlein ma anche da parte dei 5 Stelle di Conte degli altri un'analisi che rifletta sul fatto che questi voti sono andati alla destra o sono andati a Vannacci e sono tutti i voti sottratti anche al centro-sinistra ma soprattutto una riflessione seria sulla fuga dal voto allora se manca questa visione dei problemi è chiaro che la sinistra continuerà a girare intorno a se stessa e a non mai a non ecco purtroppo a non candidarsi mai alla guida del paese prima di dire chi siamo un partito deve dire chi sono gli altri e perché vanno combattuti ma se manca questa analisi la sconfitta è sicura tornando a quello che dicevamo prima sulle tue famose cacciate dopo hai deciso hai chiamato Casaleggio e hai deciso di aprire un giornale tuo da cui non saresti mai stato più cacciato e Casaleggio quando tu gli hai proposto questo progetto editoriale vi ha detto siete tutti morti riferendosi immagino alla carta stampata quale sarà il futuro della carta stampata che è una domanda che ti faccio perché ci tengo particolarmente allora Cristina tanto il fatto quotidiano non è una persona sola è un gruppo di persone e di amici che si sono messi insieme volendo fare un giornalismo come quello che voi vedete e quindi quel giorno un Casaleggio c'era Marco Travaglio c'era Scinzia Monteverdi c'era Peter Gomez forse dimentico qualcuno e noi eravamo andati da volevamo ascoltare Casaleggio che certamente era un personaggio come dice visionario un guru quello che aveva capito tra l'altro prima di tutti le potenzialità di quello che poi sarebbe diventato in un Movimento 5 Stelle per chiedergli un consiglio un suggerimento e la scena che io racconto è appunto quella di un Casaleggio molto assorto nei suoi pensieri che fa la domanda centrale dice ma voi volete fare un giornale di carta e noi diciamo sì veramente questo è il nostro progetto e lui dice siete morti perché perché aveva già capito con una certa preveggenza che la carta andava fatalmente a declinare per ragioni anche per ragioni per mille motivi anche per la concorrenza di altri strumenti forse più efficaci più diretti e che quindi secondo lui non avevamo non avevamo scelto bene facendo soltanto facendo un giornale di carta poi dicemmo pure che avremmo fatto il giornale il sito ecco lì aveva ragione casaleggio ma aveva torto ma aveva torto perché non aveva preso in considerazione il fatto che il fatto quotidiano era un giornale che entrava a piedi uniti nel panorama dell'informazione con una caratteristica una caratteristica che gli altri non avevano l'assoluta libertà di dire di scrivere tutto quello che era giusto dire e scrivere per un semplice motivo perché noi siamo non è uno slogan noi siamo i padroni di noi stessi e noi siamo i padroni di noi stessi perché ci siete voi che sostenete il giornale continuamente comprandolo la mattina e con il vostro allora qui torniamo al discorso al discorso di prima all'inizio cioè c'è un futuro ma certo che c'è un futuro della carta stampata sicuramente sarà un futuro un po' più difficile un po' più complicato però il futuro è legato alla qualità del prodotto che offriamo perché è inutile prendersela appunto con i social o con la televisione se noi non offriamo un prodotto credibile e soprattutto che abbia che esca fuori dalla messa cantata quotidiana cioè noi abbiamo una stampa una grande stampa non è più tanto grande se pensiamo alle tirature che rescita ogni mattina la messa così la specie di messa cantata spesso io e Marco spesso ci sentiamo con dei titoli di un giornale di cui non faremo il nome che sono dei titoli assolutamente che praticamente è come se questi titoli prendessero a schiaffi il lettore gli dicessero non mi comprare allora ecco bisogna che i giornali per tornare ad contare escano fuori dalla questa messa cantata dell'informazione unica appunto prendiamo la guerra in Ucraina prendiamo tanti argomenti e comincino a proporsi ai lettori come delle voci non solo libere ma intelligenti ma intelligenti che in qualche modo intercettino anche l'umore dei lettori io ripeto spesso che mi colpì l'intervista del direttore di un direttore uscente del Washington Post che appunto la domanda che cosa hai imparato in questi anni di direzione ho imparato che spesso i nostri lettori ne sanno più di noi ecco noi ogni giorno facciamo il giornale sapendo che i nostri lettori probabilmente ne sanno più di noi ma cerchiamo anche di accompagnare questo rapporto che abbiamo facendo il nostro mestiere facendo il nostro lavoro e quindi arricchendo la loro conoscenza ci abbiamo alla conclusione e ho visto che il libro inizia ogni capitolo con un corsivo sempre riferito allo stesso argomento che è Charlie Hebdo che fra l'altro fa venire un'ansia perché in altro modo comunque tutti noi giornalisti viviamo la tensione del giorno prima rispetto a quando esce il giorno dopo la notizia e la reazione che potrebbe avere quindi ci racconti questo passaggio questo lo possiamo raccontare tutti quanti quelli che erano quei giorni in quei giorni in redazione era il 2015 voi ricorderete che eravamo al culmine dell'offensiva terroristica islamica soprattutto in Francia gli islamisti tagliagole entrano fanno irruzione nella nella redazione di Charlie Hebdo che è il più grande più famoso settimanale satirico non solo francese che aveva fatto delle copertine che loro ritenevano molto offensive nei confronti del profeta fanno una strage ammazzano decine di giornalisti e noi ci poniamo a parte la solita ecco ci poniamo questa domanda in che modo possiamo esprimere la nostra solidarietà che non sia soltanto una solidarietà a parole e decidiamo di chiedere al direttore supersite di Charlie Hebdo se è d'accordo nel fatto nel fatto che noi potessimo allegare il numero successivo di Charlie Hebdo al fatto quotidiano questa cosa crea qualche problema in redazione io racconto di un'assemblea in cui però a maggioranza il racconto è nel libro quindi se lo leggete vi renderete conto anche di che cosa succede in una redazione chiamata a prendere una decisione di questo genere si decide di andare avanti ecco e il filo che come tu l'hai definito che guida i vari capitoli riguardano l'attesa di questa copertina che deve arrivarci e che noi non sappiamo assolutamente cosa conterrà finché cominciamo a vedere sullo schermo la figura del profeta abbiamo un tuffo al cuore perché pensiamo che sia un'altra delle copertine terrificanti che ci metterà ovviamente anche a noi nel mirino potrebbe avrebbe potuto metterci nel mirino dei tagliagoli islamici però la fine non ve la dico se no il libro non lo comprerete io devo dire anche questo che la fine questo racconto è il racconto anche della conclusione della mia direzione perché io pochi giorni dopo avrei lasciato la direzione del fatto quotidiano però io ci tengo a dire che quel passaggio di testimone io lo reputo un momento straordinario intanto perché il direttore è diventato Marco Travaglio che non soltanto è un grande direttore ma è un amico vero e poi perché questa continuità questa continuità nel nostro lavoro questa continuità non ha mai avuto interruzione il fatto quotidiano è un giornale tutto ciò che ruota intorno al fatto quotidiano è un giornale di persone amiche di persone che si stimano che si vogliono bene e che vogliono bene al loro pubblico grazie ancora grazie grazie grazie